Studiando la coerenza del cervello di due persone vicine scoprimo immediatamente che due persone con poca relazione avevano un basso livello di coerenza, mentre persone che avevano un'amicizia, un'empatia o uno stato di amorevolezza avevano livelli sempre più elevati di sintonia tra i loro cervelli. Il rapporto tra madre e figlio, tra persone innamorate, mostrava dei livelli di coerenza superiori al 70%, ma di nuovo la grande scoperta fu quando cominciamo a testare persone in meditazione. La coerenza tra i loro cervelli raggiungeva dei livelli superiori all'85-90%, come se le loro anime, le loro coscienze, sintonizzassero completamente le loro energie. Quelle due persone erano realmente sulla stessa onda.